Una figuraccia così l'Abruzzo faticherà a cancellarla. Il caso mare inquinato finisce per condizionare anche i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Infatti, dopo quasi un mese di polemiche, commissioni, consigli straordinari, articoli pubblicati anche dalla stampa nazionale sull'acqua sporca pescarese e le discusse omissioni del sindaco Alessandrini, le due nuove ordinanze emesse dal comune di Pescara per vietare la balneazione nei tratti di mare antistanti via Balilla e via Mazzini, finiscono per incidere pesantemente sulla Kermess internazionale dei giochi del Mediterraneo e di conseguenza sull'immagine della nostra regione. Le analisi dell'Arta, le ennesime negative dal punto di vista della carica batterica presente nell'acqua, hanno costretto gli organizzatori a spostare la gara di Aquathlon nella spiaggia libera tra le naie dei Lido Hawaii, riviera nord di Pescara, pregiudicando anche la diretta TV della Rai. Più a sud comunque la situazione non è migliore, il comune di Francavilla nella zona di Fosso Pretaro al confine con Pescara ha emesso il divieto di balneazione e dire che ieri, al nostro microfono, il sindaco Antonio Luciani era stato facile profeta lanciando carte alla mano l'allarme proprio per l'impianto di depurazione di Fosso Pretaro, alle prese con atavici malfunzionamenti Aquilaca sembra fatichi a porre rimedio. È chiaro che a questo punto qualcuno dovrà rispondere di quanto sta accadendo e sotto tiro ci sono soprattutto Haka e Darta, cioè il gestore delle acque e della depurazione e chi si occupa delle analisi. Confcommercio Pescara, ad entrambi i vertici delle aziende pubbliche, ha chiesto di fare le valigie, un coro a cui si è unito anche Luciani. Poi ci sono le inchieste della magistratura, quella già partita a Pescara e quella che partirà a breve a Chieti, dopo che il primo cittadino di Francavilla avrà presentato l'esposto che sta preparando su tutta questa storia e meno male che la stagione balneare sta per terminare.